Musica Amici dell'Ubus in Game, ben ritrovati all'interno di FIFA 16 La nostra carriera con la Fiorentina sta prendendo sempre più corpo Mancano ormai le ultime 5 giornate Siamo quasi al traguardo, siamo quasi qualificati per la Coppa Campioni Credo che manchino più o meno 6 punti, se non di meno Guardiamo un attimino la classifica, allora così ci togliamo il dubbio La classifica dice che siamo a 66 punti, 9 punti ormai, anzi 11 punti di stacco dalla Juventus L'abbiamo salutata, 6 punti però di vantaggio sul Napoli terzo Quarta la Lazio, quinta l'Inter Quindi sì, diciamo mancano 5 giornate ancora quindi fare conti sinceramente non è il caso Però ci siamo molto vicini Oggi andiamo ad affrontare una squadra molto particolare e molto insidiosa Il Ludinese E allora non perdiamoci in chiacchiere Facciamoci la formazione che scenderà in campo al Friuli Fuori casa Manteniamo la nostra formazione con il 4-3-1-2 che ci ha portato bene Oppure ritorniamo al modulo normale Io direi di lasciarla così perché ci ha portato bene Però come vedete c'è qualcuno che ha bisogno di riposare Ci sarebbe fra... Chi potrebbe durare veramente molto poco Babacar, Rossi, Ilicic Allora facciamo una cosa Facciamo rifiatare al limite Ilicic Lì dietro magari lo facciamo entrare dopo Facciamo giocare Verdun Su Arez Qui potrebbe entrare Fernandez Se lo trovassi No, Blacikoski ovviamente Che entra al posto di vecino Iacopenko sostituito da Gomez Tomovic è praticamente morto Io farei giocare per esempio Kalinic al posto di Babacar Non so perché ma oggi mi ispira Quindi Babacar non ce lo portiamo Ritorniamo comunque così Abbiamo anche Borcavalero volendo da sostituire Insomma ce ne sarebbero Purtroppo è una partita infrasettimanale Quindi è chiaro che ci sia questo calo fisico Ragazzi ci vediamo all'interno del campo Stadio Friuli di Udine Udinese-Fiorentina del match Sta piovendo C'è anche un po' di nebbia Speriamo che non influisca sulla nostra partita di oggi Partita sinceramente per la quale Non dico metterei una firma per il pareggio L'Udinese non è tanto differente dal Sassuolo che abbiamo affrontato nella scorsa partita Però gioca in casa questa volta Ragion per cui ci dobbiamo aspettare una squadra che giocherà per vincere Noi manteniamo ancora saldo il nostro vantaggio sulla Juventus Siamo un gol di vantaggio per quanto riguarda i gol subiti Cioè abbiamo subito un gol in meno rispetto a loro Questo è Gilberto Qui Antonio Di Natale Quarantenne praticamente Ormai prossimo Ancora immortale Un altro Highlander del nostro campionato Partiti Qui abbastanza largo E Denilson Si allunga la valla Guardate come corre Denilson E Denilson Seguito Ai 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 Seguito qui da Gilberto Che non è riuscito proprio neanche ad arrivare di un centimetro Attenzione E qui Qui abbiamo fatto un errore con Tatalusano Che si guarda e gli dice a Gonzalo Rodriguez Stai calmo Non ti preoccupare Tutto sotto controllo Ma baffanculo va Qui Kalinic Kalinic che non gioca praticamente da parecchio Kalinic Kalinic Attenzione perché entra dentro l'aria Kalinic Il tiro di Kalinic La palla completamente fuori Sbilenca Ecco perché non giochi da parecchio tempo Qui stop elegante di Denilson E il tiro La palla sopra la traversa Vi spiego anche il perché I nostri passaggi spesso non vanno a termine In maniera pulita Perché ho messo la difficoltà Relativa ai passaggi Quindi C'è anche questo da dire Non per giustificarmi però Se qualche cosa ogni tanto non viene bene È perché In quella frazione di tempo Ovviamente devo anche considerare La difficoltà del passaggio che ho inserito Attenzione Zapata Zapata Qui grande la risposta del Tatarusano Stiamo soffrendo Che poi tra le altre cose Era un giocatore abbastanza esile Quindi non è che Vabbè comunque finisce il primo tempo 0-0 Poca Fiorentina Dobbiamo proprio essere sinceri Qui attenzione Perché Kalinic Il tiro di Kalinic La grande risposta di Karnezzis Qui aveva fatto tutto bene Kalinic Anche la conclusione Bravo qui Karnezzis Bello questo tiro Questa bella fucilata Karnezzis qui arriva Volando Ci siamo Attenzione Adastori Occhio Occhio vivo qui Occhio vivo qui E meno male che ci siamo frapposti Fra lui e la porta Perché altrimenti ci avrebbe dribblato E sarebbe entrato dentro la porta Facile Sono cose queste che Con un pizzico di esperienza Cominci a imparare purtroppo Esperienza pagata a caro prezzo Ovviamente La prossima giocheremo contro la Juventus Big match Ormai per sal... Ragazzi ma che gol ha fatto Ma qui ci siamo fatti fregare Guardate No ci sono parecchie responsabilità Guardate dove è andato Tatarusano Scusatemi 1-0 Proprio mentre stavamo giocando meglio Adesso Peccato La palla Attenzione 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 Il tiro E il gran gol Di Mati Fernandez Il gran gol Il pareggio Ha fatto tutto benissimo Ha fatto un'ottima incursione Qui era stato lasciato un pochettino solo Nella fascia Guardate infatti Scatta indisturbato Poi rientra Fa fuori un avversario in maniera molto facile Questo credo che sia Pasquale No Ok Eh sì Potrebbe essere il To invece Bene sì Lo mette alle spalle All'angolino Sinistro Di Carnenzis Tutto da rifare dunque Riacciuffiamo questo pareggio 1-1 Di Natale qui salta Cioè facciamo saltare di Natale È veramente Qualcosa No ragazzi Veramente Non ci sto credendo Basta Ci dico io Ancora Non riusciamo a disimpegnare Non vorremmo Non voglio perdere la palla Ovviamente Non la voglio regalare a loro Però Nello stesso Mamma mia Meno male Che qui Ha cazzeggiato Perché ho detto Goll Ho detto È andata Ce l'hanno fatto Ci hanno bucato Eh Attenzione Qual dribbling Il tiro La grande risposta Ci stanno prendendo Appallonate Ragazzi Appallonate Ci stanno Ci stanno Veramente Letteralmente Prendendo Appallonate Mamma mia Ragazzi Oggi Oggi Che cosa C'ha Oggi Cos'ha Il nostro Tatarusano Ma porca troia Ma perché Sti passaggi Porca troia Io non lo capisco Porca miseria Che cos'era Quel passaggio Ce la facciamo fare Due cazzo Di passaggi di fila Bene E raga Ma non li facciamo Diventare Maradona Questi Ognuno di loro Diventa Maradona Ragazzi Porca miseria Va Porca miseria Il tiro Ribattuto Qui Eravamo in porta Stiamo chiudendo Noi in attacco Dopo aver Praticamente Sofferto Una partita sana Attenzione Colpo di testa Qui Entriamo dentro L'aria Entriamo dentro L'aria E che cazzo Di tiro È questo Finisce comunque 1-1 Ragazzi Probabilmente Questa partita L'abito ancora Non fischia E fischia Adesso 1-1 Finisce così Abbiamo preso Un punto Ragazzi Alla vigilia Era più che Pronosticato 8 tiri A 2 In porta Per l'Udinese Ma Non perdiamo Tempo Allora andiamo a godere La partita contro La Juventus Questa sfida Magica Formazione Mettiamo il nostro 4 Ecco Esatto 4-5 1 Facciamo Rientrare Anche se non mi è dispiaciuto Kalinic Devo essere sincero Babacar Però Kalinic Me lo voglio portare Rossi un pochettino Così Un po' A ciaccatello Qui ce lo portiamo A posto di vicino Jakobenko Kalinic Me lo porto Bernadeschi Infortunato Bracikoski Pure infortunato Mannaggia Questa non ci voleva Allora dobbiamo mettere Per forza di cose Gomez Al posto Un'altra volta Di Bracikoski Va bene Ci vediamo in campo Stadio Artevio Franchi Partitone Oggi Anzi La partita Che avrebbe potuto Come dire Trasformarsi In una sfida Scudetto Però purtroppo Una serie di nostri Piccoli Inciampamenti Ci hanno Costretto a seguire Ovviamente ormai Lo scudetto è Letteralmente in mano Alla Juventus Quattro giornate alla fine C'ha esattamente 13 punti di vantaggio Ormai lo scudetto è vinto C'è poco quindi da fare Oggi è tanto per salvare L'onore Per allontanarci ovviamente Dalle inseguitrici Da Napoli soprattutto Che ha Teoricamente Quattro punti In meno di noi Quindi Più che fattibile L'oro recupero Questo è Manzukic Ma non è lui L'uomo Che dobbiamo temere Ce ne hanno parecchi Quadrado Di Bala Questi volano Ragazzi Questi volano Poi ovviamente Buffon Il numero uno al mondo Ci mancherebbe altro Quindi Partita Che sta per iniziare Ce la godiamo Attenzione a Pogba Centralmente adesso Provano a sfondare Pereira Pereira Troppo spazio Diamo E qui Ancora una volta Noi Attenzione Il tiro Il palo Dovrebbe essere fuori gioco E così è infatti Eh sì Eh sì Che dira Mi dispiace per te Ma è fuori gioco E allora ancora Borch Quadrado Che provava a scattare Ma Viene intercettato Bene Bella questa palla Adesso per Pepitorosi Che potrebbe riprovare Una nuova incursione Il cross Per la testa Di Babacar E qui la parata facile Per Buffon Eh Attenzione Qui c'è spazio C'è spazio per Licksteiner Serve Bellissimo questa palla Mamma mia Che palla Ragazzi Mamma mia Mamma mia Che palla L'incrocio dei pali Meno male E attenzione Perché qui ancora Il cross Stavolta Sbilenco In chiusura di primo tempo Mamma mia Pereira Cosa ha fatto Qui lungo la fascia Allora Finisce però il primo tempo Giustamente quando stavamo andando A fare un'azione offensiva Zero a zero Ragazzi Partita Viva Ovviamente Ci si aspettavano A Juventus così Campione d'Italia Non per niente Bella questa pallone Per Gomez Potrebbe crossare Mettere al centro Questa palla Per Babacar 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 Gol L'uno a zero Incredibile Quando meno Ce l'aspettavamo Guardate questa incursione Di Gomez Alza la testa La mette lì Per Babacar Qui anticipato Anticipato Tutto il mondo Juventino E' stato anticipato E va bene così 1 a zero Per noi Ancora una volta C'è da longa Babacar Mette il suo sigillo Esulta Il pubblico Viola Di parte allora Velocissimo La Juventus Però Attende Che scendano Tutti gli effettivi Qui sul filo Del fallo laterale Bellissima Quest'azione Della Juve Attenzione Attenzione Che qui Mette al centro Questa bellissima palla La parata Ancora una volta Di Tatarusano Su quadrato Che se la ride C'hai poco da ridere Buffone allora Velocissimamente Non perde tempo Lì male Male questo intervento Da parte di Gilberto Male Male Cross Centrale Qui dobbiamo stare attenti No Attento Attento Ma perché Porco mondo Perché Perché abbiamo fatto Questa cagata Guarda qui Guarda qui Perché questo passaggio Così è un assassino Sei Sei un assassino Sei Mamma mia Che vergogna Ma lì non si fa Una cosa del genere Ragazzi C'è Follia pura Anticalcio Allora Riproviamoci Ovviamente È la Juventus Stavano attaccando loro Hanno fatto molto più di noi Questo è chiaro Quindi non è che Stavano rubando qualcosa Attenzione qui adesso A quadrato Difficile Fermarlo Questo Attenzione Morata Qui La colla per Mazzucchic La traversa Ennesima Mamma mia Ragazzi Mamma mia A Juve Che caccia del gol Perché la vorrebbe vincere E mi sa che Le opportunità ne ha avute Per vincerla Qui ancora una volta Mamma mia L'illusione del gol Ragazzi Pogba Le stiamo prendendo Da tutti i lati Qui Rossi È praticamente morto Ma non ho Con chi Con chi sostituirlo Sinceramente Potrei fare Entrare Sì Allora A questo punto Potremmo cambiare modulo Giocare con Un 4 Ecco Con questo 4-4-2 Con quello nostro Solido Vediamo Allora Di fare Sì Togliere Rossi Mettere Kalinic Anche Alonso Non ne ha più Mettere allora Pasqual E per il resto Ragazzi Non possiamo fare altro Via così Il colpo di testa Qui Il tiro Al volo Bellissimo Guardate come il pubblico Ci sta incitando Ragazzi Ultimi momenti Di questa partita È qui però Viene fregato Centralmente Per Pogba Stanno cercando Di prendere le misure Gli spazi Attenzione Perché si gira È qui È solo Dovrebbe arrivare Tatarusano Ci arriva Allora Ripartiamo veloci Ripartiamo veloci Ma che fai Ripartiamo veloci Mette a terra Il giocatore Attenzione Perché è scattato Kalinic Kalinic è fresco Kalinic è fresco Kalinic è fresco Proprio Ma proprio Fresco Finisce così Ragazzi Uno a uno Un risultato Che sicuramente Sulla carta Ci può anche stare Ovviamente Pareggio contro La Juventus Juventus Che ha meritato Sicuramente Qualcosina di più Però Buon per noi Siamo riusciti A resistere Siamo riusciti Anche a passare In vantaggio Peccato Perché il vantaggio L'avremmo potuto Anche mantenere Se non avessimo Fatto una sciocchezza Una delle nostre Solide sciocchezze Qui ragazzi Allora c'è Il Napoli Che ha perso La sua prima partita La seconda Anche se la vincesse Rimarremmo Comunque sia A 5 punti Quindi in queste due partite Il Napoli Potrebbe Teoricamente Recuperarci Un solo Punto Vediamo allora Come va a finire La prossima ce l'abbiamo Contro il Chievo Ma ce la facciamo Al prossimo video Ovviamente Voglio vedere Un attimino Allora Ragazzi Vi spiego come è la situazione La Roma Che ha 36 partite Quindi anche Un in più di noi E ha 8 punti da noi Quindi Fuori da Qualunque tipo di discorso Secondo me Perché gli rimangono Le ultime due partite Non ne rimangono tre Difficile che recuperino Il Napoli ancora Deve recuperare una partita Quindi a 60 punti Potrebbe andare a 63 Quindi 5 punti da noi A esattamente 3 giornate alla fine Ci sta Ci sta E ci va più che bene Vincessi Andiamo a vincere A Verona Quindi giochiamo fuori casa Contro il Chievo Sarebbe ottimo Va bene ragazzi Io ho visto i tempi Prolungati Che abbiamo avuto oggi Abbiamo avuto due belle sfide Contro le due bianconere Del campionato Direi di concludere Qui il nostro video Se vi è piaciuto Al solito Pollicione in su Iscrivetevi al canale Scrivetemi ragazzi Se avete qualche consiglio Da darmi Sarà ben accetto Che dirvi Da Lupus in Game è tutto Una buona giornata a tutti Ciao 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 Ciao